Allora, il problema cinghiali in città deve ormai essere affrontato con serietà e urgenza prima che sia troppo tardi, prima che accada qualcosa, insomma. Il Comune ha appena varato un'apposita ordinanza. Ecco, di che cosa si tratta? Ce la spiega? Sì, diciamo che il problema cinghiale è una situazione da non sottovalutare e come di consedutine ogni anno puntualmente nell'imminenza del periodo estivo si ripropone questo tipo di problema con la presenza di fauna selvatica nella fattispecie cinghiale nelle immediate vicinanze del centro di Cassino e in prossimità, diciamo, ai piedi dell'abbazia di Monte Cassino e in prossimità di via Pinchera. L'amministrazione comunale, quindi, dopo le numerose segnalazioni e dopo i numerosi avvistamenti ha ritenuto opportuno emanare un provvedimento o meglio, nella fattispecie, un'ordinanza che tuteli l'incolumità dei cittadini. Questa ordinanza sostanzialmente viene data attuazione attraverso il corpo di polizia in particolare della polizia provinciale che è molto competente in materia e con l'ausilio dell'ATCFR2 che è l'organismo che si occupa della fauna selvatica in questo territorio e quindi della gestione della caccia. Quindi l'ordinanza, diciamo, che sostanzialmente prevede una serie di interventi ma noi cercheremo di attuare quello meno gruento che consiste nella cattura di questi piccoli per poi essere, diciamo, traslocati in aree più idonee alla loro natura a quella che è la loro natura e non danno chiaramente dal centro. Consigliere, la famigliola abbiamo detto, ormai la chiamiamo così, fa parte di noi, insomma, questa famigliola che scende ogni sera su via Riccardo San Germano è diventata ormai, come dire, un'attrazione, ci sono addirittura alcuni che si fanno dei selfie, ci sono persone che si avvicinano e danno anche da mangiare, insomma, a questi animali residenti, soprattutto, e passanti che gettano loro magari dei pezzi di pane, altri cibi, insomma. Ecco, come pensate di fronteggiare questo fenomeno che rischia di avvicinare ancora di più gli animali al centro della città? Guardate, un errore gravissimo che i cittadini stanno facendo è proprio quello di dare del cibo a questi selvatici. va sottolineato, infatti, che noi stiamo parlando di fauna selvatica e non di animali d'affezione, quindi dare del cibo a dei piccoli significa invitare gli animali ad avvicinarsi ancora di più al centro urbano, avvicinarsi ancora di più alle persone e alle abitazioni, mettendo a serio rischio l'ingolumità delle persone, perché noi dobbiamo pensare che questi cuccioli di cinghiale sono accompagnati dalla loro mamma, che potrebbe interpretare un gesto umano come pericolo per i loro piccoli e quindi attaccare di fatto le persone creando seri danni fisici. Quindi l'appello che io faccio soprattutto ai genitori, alle persone che si sono avvicinate anche facendo selfie, è di evitare assolutamente questa cosa, perché potrebbe essere un serio pericolo per loro stessi e per i loro bambini.